Da segnalare un terremoto di magnitudo 2.9 alle 9.50 di oggi, 11 febbraio 2020 in provincia di Campobasso in Molise, dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, il comune più vicino al epicentro sarebbe Rotello. Il terremoto si è verificato a circa 10 km di profondità, la scossa è stata percepita quindi avvertita distintamente addirittura in regione Puglia, ci troviamo nel meridione sud dell'Italia. Se ci saranno eventuali aggiornamenti nel corso della giornata non perderò occasione di informarvi diffusamente anche se da come si legge sul web questo si chiude qua. Speriamo che non ci siano aggiornamenti. Grazie a voi, se abitate in Molise o in Puglia fatemi sapere se avete no percepito la scossa di terremoto e al prossimo video dal vostro Leandro Arias, dal vostro narratore italiano di YouTube Italia. Grazie ancora, al prossimo video e una buona giornata.